Ciao amici e ciao Melita che mi scrive io amo tanto il rosa fucsia e viola se puoi farlo grazie mille riferendosi a quel video che vi ho fatto vedere prima dove creavo un effetto labbra e appunto avevo scritto se volete vedere altri colori fatemelo sapere nei commenti e adesso io ti ricreo questo effetto labbra con i tuoi colori preferiti andiamo comincio con il viola fucsia e infine rosa mescoliamo io direi che è bellissimo si sono confusi un po il rosa e il fucsia però c'è questa sfumatura viola e rosa al centro che sono veramente stupendi ragazzi se volete vedere altri colori fatemelo sapere nei commenti grazie Melita un bacio ecco 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 Grazie a tutti.